ma donna ah 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 eccoci fammi mettere un po' di uuuuuh ma ci sono molte ah ma come ora che mi vede calabrese ma che oh che devo dire che devo dire che un cane ma molto qua ah 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 questa ah 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 sembra che ma aspetti qua ci vuole un po' di di rosmarino no non dico niente a calabrese ho messo qualcosa sopra però il rosmarino va bene oh no se stavo un po' di prezzemino era meglio certo che è crudo va a casa non faccio mai lo canno oh 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 ma lì la riscaldo un po' oh 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 sì oh è una cosa ma finalmente almeno la povera bestia mangio pronto torre di controllo pronto attenzione torre di controllo torre di controllo torre di controllo scusate si è riuscito il coperchietto della parecchia che c'era